Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante. Grazie. Tragico lutto nella politica italiana, è morto all'improvviso poco fa il noto politico. La notizia è giunta in redazione da poco, lasciando l'Italia in uno stato di shock. Ha avuto un ruolo attivo nel Parlamento italiano per oltre un decennio, è deceduto questa mattina a Catania, la sua città natale, all'età di 73 anni, a seguito di una lunga malattia. La scomparsa di Nino Strano, ex deputato e senatore di destra, ha scosso il panorama politico italiano, lasciando tutti senza parole. La sua carriera politica ha avuto inizio a Catania negli anni 70, quando è stato eletto in Consiglio Comunale per il Movimento Sociale Italiano. Negli anni 90, Strano è diventato deputato e assessore della regione Sicilia. Nel 2001, è stato eletto alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale, e nel 2006 ha ottenuto un posto al Senato. Ha servito in Parlamento dal 2001 al 2008, e nuovamente dal 2011 al 2012, guadagnando anche un ruolo di rilievo nel suo partito. Nel gennaio 2008, la caduta del governo Prodi lo vide al centro di controversie per aver stappato una bottiglia di spumante e mangiato mortadella in aula durante la sfiducia, un gesto per il quale si è successivamente scusato, definendolo un semplice atto allegorico. Grazie a tutti.